Sindaco, che estate sarà quella di Guardia Grele? Anche quest'anno, facendo fronte alle poche risorse che comunque abbiamo, come tutti gli enti locali, abbiamo cercato di mettere a sistema tutte le associazioni che Guardia Grele ha per poter dare un calendario ampio a partire da fine giugno fino a fine agosto per permettere ai turisti, agli avventori della nostra città di poter avere un ventaglio di tutte quelle che possono essere le attrattive della nostra città. Partiamo con Guardia Grele Opera, con le loro attività che riguardano soprattutto la lirica e l'opera, lente mostra dell'artigianato, con le loro attività sia che riguardano lente mostra per la mostra che verrà fatta nel mese di agosto, ma con tutte le attività collaterali. Quest'anno partiamo anche con una nuova collaborazione, è stata ricostituita la Proloquo a Guardia Grele con gli amici, anche se ricostituiti da breve, da pochi mesi, si stanno dando da fare insieme alla nostra collaborazione per poter fare quanto di più attività sul territorio anche allargandoli fuori dalle mura del centro storico. È un ringraziamento al Presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo che per la sua vicinanza, perché anche quest'anno, dedicheremo delle serate al connubio Gabriele D'Annunzio, Modesto della Porta. Due poeti vissuti nella stessa epoca che si sono incrociati nella loro attività e quindi dare anche a Guardia Grele il simbolo, il timbro per la presenza di Gabriele D'Annunzio presso Guardia Grele che l'ha denominato la terrazza d'Abruzzo, la città di Pietra e quindi grazie anche a questo contributo, questa vicinanza con la presenza del Consiglio regionale Guardia Grele ricorderà il grande vate. Sindaco, dopo oltre due anni di pandemia, Guardia Grele punta al tutto esaurito, nel mese di agosto soprattutto? Devo dire che anche l'anno scorso con le nostre attività che le abbiamo dislocate addirittura in quasi tre mesi abbiamo avuto una grande affluenza, quest'anno pensiamo ancora a qualcosa in più perché nella nostra città io ho lanciato lo slogan l'anno scorso, o meglio una battuta visto che d'estate chi sta al mare sulla spiaggia deve soffrire per la calura può benissimo venire a Guardia Grele a rinfrescarsi, a sentire della buona musica, a mangiare del buon cibo e a vivere una serata diversa dal solito.